Non conosco personalmente l'Onorevole Alberto Bagnai. Certo, indirettamente posso dire di conoscerlo da diversi anni, da quando il suo blog lottava con quello di Oscar Giannino per la prima posizione nella classifica dei blog più visitati nella sezione Economia e Finanza. E il mio Finanza in Chiaro era arrivato nel suo momento di massimo splendore, di massimo fulgore, alla settima posizione. Sono passati una decina d'anni, sembra un'altra epoca. Alberto Bagnai è senatore della Repubblica, mentre io faccio dei video che nell'ultimo mese hanno superato 1.300.000 visualizzazioni su YouTube e 3.000.000 su Facebook. Ebbene, l'Onorevole Bagnai è certamente una persona per bene, oltre che un economista e preparato. Anche se, occorre precisarlo, le sue idee in campo economico, chiamiamole post-keynesiane, non collimano con le mie. Ma è chiaro che occorre parlare del 90% che ci unisce e non del 10% che ci divide. sarebbe assurdo il contrario. E allora, non so se avete notato, ma da un po' a questa parte, l'Onorevole Bagnai ha intensificato la sua attività in rete. I suoi video, ovviamente, sono un appuntamento da non perdere. L'Onorevole Bagnai, e questo mi sembra del tutto evidente, è molto cambiato da quando è entrato in politica. Ma, diciamo, in senso opposto rispetto a quello che saremmo portati a pensare. Siamo portati a pensare, infatti, che la politica, dato che spesso è definita come l'arte della mediazione, renda le persone più tolleranti, più portate alla ricerca di un compromesso. Nessun partito, infatti, dai tempi dei monocolori democristiani, ha mai più governato da solo. Quindi, per un politico, insomma, la condivisione delle tesi, anche quelle altrui, non è una possibilità, è un obbligo. Per questo motivo, tra l'altro, io non sono mai entrato e non mi è mai sfiorata, finora, l'idea di entrare in politica. Ovviamente io amo scambiare opinioni, discutere con le persone, soprattutto con quelle intelligenti. Ma se gli altri non riescono a convincermi delle loro tesi, io mi tengo le mie e non le cambio nemmeno di una virgola. Non so se per questo posso essere considerato un presuntuoso o meno. Eventualmente attribuitemi pure questo difetto, non mi offendo. Insomma, io non sarei mai in grado di votare a favore di una legge che non mi sembra giusta, una legge proposta da un'altra formazione politica, e votare a favore, poiché devo sottostare ad un accordo stipulato con gli alleati di governo. Però c'è ancora una cosa ancora peggiore di questa. Io oggi sono libero di parlare, di argomentare e di discutere con chi voglio io. Ed ovviamente evito di discutere con gli stupidi. Un politico non ha questa libertà. Deve discutere anche con chi sa perfettamente che da quel dibattito non scatorirà alcun risultato perché l'altro non è in grado di capire ha anche il ragionamento più semplice. Quindi, veramente è esilarante. Quando Bagnai fa l'imitazione della taverna. Avete presente la parlamentare del Movimento 5 Stelle? Io veramente non resisto. Mi piego in due perché avete presente, no? Bagnai, professore universitario, fiorentino, quindi dizione perfetta, nessuna inflessione, e che invece appunto imita la taverna con quello spiccato accento romanesco, ma soprattutto quel linguaggio sguaiato, non so come definirlo, taccoatta, insomma, naturalmente in senso buono, senza alcuna offesa. Io capisco, Bagnai, quando avrà dovuto discutere con la taverna si sarà chiesto ma perché io devo stare a discutere con questa qui? perché anche qui avete presente Bagnai, ripeto, non tanto come professore universitario, quello non conta, ma quanto come uomo di cultura. Voi sapete che Bagnai è un clavicembalista, un promotore di associazioni culturali, musicali, di altissimo livello, di livello internazionale. Quindi mi immagino la sua frustrazione quando deve dissertare con la taverna. Ed attenzione che, perché Paola Taverna è vicepresidente del Senato, io non so se voi riuscite a capire, vicepresidente del Senato, dovremmo stupirci, non che l'Italia è ridotta male, ma che l'Italia esiste ancora, se può permettersi Paola Taverna, vicepresidente del Senato. L'avete presente, no? La vicepresidente del Senato quando è salita all'onore delle cronache e per quel video in cui lei mette in mostra tutto il suo savoir-faire, insomma il suo garbo, le sue maniere gentili ed educate con le quali si rivolgeva a quelli del PD quando non si pensava ancora naturalmente che un giorno sarebbero diventati i suoi alleati di governo. Un video che è diventato virale, insomma sul web, ha avuto milioni di visualizzazioni. Comunque andiamo avanti perché ciò del quale invece volevo parlarvi e che mi premeva di sottolineare è proprio questo cambiamento dei toni dell'onorevole Alberto Bagnà il quale è arrivato a dire cose che obiettivamente mi hanno stupito. Naturalmente questo tono più duro e risoluto nei confronti dell'attuale governo è più che giustificato. Questi ci stanno portando alla deriva questi stanno distruggendo l'Italia il governo giallorosso sta distruggendo l'Italia ed allora se la casa brucia non è che devi dire in tono pacato quasi sottovoce che la casa sta andando in fiamme bensì devi gridare con tutta la voce che hai in corpo al fuoco e riferendosi all'attuale situazione politica ed economica dell'Italia attenzione ora perché riporto le precise parole tratte appunto da un video che l'onorevole Bagnà ha postato nei giorni scorsi ecco cosa dice il governo ha paura di venire in aula perché ha paura di sentirsi dire quello che io adesso vi dirò cioè ha paura di sentirsi dire quale è la situazione la situazione è estremamente grave ve lo dico con grande pacatezza e cercando anche di pesare le parole ma purtroppo la situazione è grave gravissima diciamo quello che si poteva intuire analizzando lo svolgersi degli eventi per ricondurli ad una razionalità ad una qualche causa adesso comincia beh insomma parlando con persone che stanno a Bruxelles parlando con persone che ci sono state parlando con persone che conoscono attraverso la rete di rapporti che grazie a voi grazie al fatto che mi avete mandato nell'istituzione a rappresentarvi che mi sono potuto fare ad alto livello queste persone che mai avrei pensato di conoscere di cui mai avrei potuto pensare un giorno di trovarmi ad apprezzare anche le posizioni l'umanità grazie a questo si cominciano ad acquisire elementi di prova e la situazione più o meno è questa insomma avete capito tutta la prudenza utilizzata nel misurare le parole e questa prudenza aveva uno scopo ben preciso ovviamente lo scopo di preparare il pubblico alla bomba all'affermazione sconvolgente ed infatti a quel punto l'onorevole Bagnai senza usare mezzi termini dice il governo è ricattato il governo ha ricattato quello che diciamo così la cosiddetta Europa cioè il blocco fondamentalmente Are Amarco ma anche la Francia desiderano è che il governo chieda un prestito al MES allora è una novità no è già successo che l'Italia si trovasse in situazioni simili è già successo nel 2012 è successo nel 2015 e sta risuccedendo diciamo che ogni 3 4 5 anni tornano alla carica i nostri fratelli del nord ebbene successivamente l'onorevole Bagnai dice delle cose estremamente pesanti nei confronti dell'Europa e nei confronti dei nostri governanti ma il video dura più di un'ora e venti un video che io naturalmente vi consiglio di ascoltare per intero ma comunque vorrei ancora dirvi un passaggio di questo video che mi ha lasciato letteralmente basito Bagnai chiede in quale modo può essere ricattato si chiede naturalmente in quale modo può essere ricattato il governo allora ritiene che i paesi del nord temendo un default dell'Italia che ovviamente creerebbe problemi alle loro banche visto che hanno in portafoglio molti miliardi di titoli del debito pubblico italiano e a questo punto torno a riportare le precise parole dell'onorevole Bagnai il quale riferendosi come detto ai paesi europei dice prima di permettere all'Italia di potersi indebitare di più devono aver detto caro Giuseppi caro Roberto tu ti puoi indebitare di più ma prima mi entri nel mess perché se le cose a casa tua vanno male io i soldi indietro le rivoglio e quindi tu prima mi entri nel mess e poi eroghi e se io erogo e poi faccio come mi pare probabilmente le cose che possono avergli detto sono o ti scateno contro i mercati o ti faccio una procedura di infrazione e e a quel punto fa un gesto con le mani inequivocabile un gesto il cui significato è ti faccio un così oppure attenzione perché qui veramente è incredibile quello che dice oppure possono avergli detto come a Varoufakis una cosa del tipo ah tuo figlio ieri sera ha fatto tardi eh lo abbiamo visto con la sua ragazza ha fatto quel percorso perché questi fanno così eh non so se capiamo con chi stiamo parlando io lascio ogni commento a voi perché veramente sono rimasto letteralmente senza parole grazie a tutti a voi